Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Campagna hanno deferito in stato di libertà alla procura di Salerno un 31enne del posto per simulazione di reato. Il giovane, presentatosi presso la locale caserma, ha riferito di essere stato rapinato poco prima della somma di 250 euro, appena prelevata da un bancomat della frazione Quadrivio ad opera di due giovani armati di coltello. Il ragazzo, inoltre, ha esibito anche un piccolo taglio del maglione dell'addome nella parte destra. Le immediate indagini, anche con la visione di telecamere private, hanno permesso di appurare invece che il giovane aveva inventato tutto, confessando successivamente e spontaneamente agli investigatori la simulata rapina.